Capitolo 6 Dieci anni In un batter d'occhio i ragazzi fecero gruppo. Conrad era il capo, la sua parola era legge. Stephen era il suo comandante in seconda e Jeremiah era il giullare. Quella prima sera, Conrad decise che avrebbero dormito in spiaggia nei sacchi a pelo e avrebbero acceso un falò. Lui era Boy Scout, se ne intendeva di quelle cose. Con invidia li osservai organizzare la serata, specialmente mentre mettevano in borsa i cracker e le caramelle. Non portate via tutta la confezione, avrei voluto dirgli. Non lo feci però, non ne avevo il diritto, non ero neppure a casa mia. Stephen ricordati di portare la torcia, ordinò Conrad. Stephen annui subito. Era la prima volta che lo vedevo eseguire gli ordini. Ammirava Conrad, che aveva otto mesi più di lui. Era così da sempre. Tutti avevano qualcuno, tranne me. Desideravo essere a casa mia, a mangiare il gelato con mio papà sul pavimento del salotto. «Geremia, non dimenticare le carte!» aggiunse Conrad, arrotolando un sacco a pelo. Geremia gli rispose con un saluto militare ed eseguì un buffo saltello che mi fece ridere. «Sì, signore!» Si voltò verso di me, che ero seduta sul divano, e disse «Conrad è autoritario come nostro padre, non sentirti obbligata ad ascoltarlo». Il fatto che leggere Maya mi avesse rivolto la parola, mi diede il coraggio di chiedergli «Posso venire anch'io?» Subito Stephen rispose «No, solo maschi, vero Conrad?» Conrad esitò. «Mi dispiace, belli», disse, e per un secondo parve davvero dispiaciuto, perfino due secondi. Poi tornò ad arrotolare il sacco a pelo. Io mi voltai a guardare la tv. «Va bene, a ogni modo non mi interessava davvero!» «Oh, attenzione, belli sta per piangere!» disse allegramente Stephen. Si voltò verso Geremia e Conrad e confidò «Quando non ottiene quello che vuole, piange!» Papà bocca sempre. «Taci, Stephen!» gridai. Temevo di scoppiare a piangere. E l'ultima cosa di cui avevo bisogno era di fare la piagnocolona proprio la prima sera. A quel punto non mi avrebbero mai presa sul serio. «Belli sta per piangere!» cantilenò Stephen. Poi lui e Geremia iniziarono a saltellare assieme. «Lasciatela in pace!» ordinò Conrad. Stephen smise di saltellare. «Che cosa?» chiese confuso. «Siete proprio due immaturi!» proseguì Conrad scuotendo il capo. Li osservai prendere l'equipaggiamento e prepararsi a partire. Stavo per perdere la mia occasione di dormire all'aperto, di fare parte del gruppo. In tutta fretta dissi «Steven, se non mi lasci venire lo racconto alla mamma!» Stephen fece una smorfia. «No, non lo farai! Mamma odia quando fai la spia!» Era vero. Mia madre odiava quando denunciavo Stephen per cose simili. Mi avrebbe risposto che mio fratello aveva diritto a un po' di tempo per sé, che io mi sarei unita a loro un'altra volta, che mi sarei divertita di più a rimanere a casa con lei e Beck. Sprofondai sul divano, le braccia incrociate sul petto. Avevo perso la mia occasione. Ora non ero altro che una spiona, una mocciosa. Uscendo, Jeremiah si voltò e mi fece un veloce saltello. E io non potei fare a meno di ridere. Girando la testa, Conrad mi disse «Buonanotte, belli!» E fu così che mi innamorai.